Si è tenuta a Fiuggi la riunione delle confraterne della Santissima Trinità. È stato stilato dal Rettore del Santuario il bilancio dell'anno. Andiamo a sentire insieme. Si è svolto domenica scorsa presso la chiesa di San Biagio a Fiuggi l'incontro voluto dal Rettore del Santuario della Santissima Trinità e Vicario della Dioce, Sianagna Latri, Don Alberto Ponzi, con i capi compagnia venuti dalle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e dell'Aquila per ascoltare il bilancio dell'anno del luogo di culto. Un bilancio che ha visto come sempre un'alta affluenza di fedeli. Tra i 350 e i 400 mila sono stati infatti pellegrini. I gruppi e le compagnie registrati sono stati circa 300. 60 mila invece le comunioni per un totale di circa 180 mila persone che hanno partecipato alle celebrazioni eucaristiche. Don Alberto con soddisfazione ha anche affermato che il lavoro svolto sul sito e sulle pagine social del santuario è stato apprezzato da 230 mila persone che hanno potuto seguire le dirette che si sono svolte durante l'anno al santuario. Unica nota stonata messa in evidenza dal Rettore sono le confessioni in netto calo rispetto al passato. Di qui l'invito ai capi compagnie di curare di più questo aspetto. Don Alberto ha voluto richiamare le tre parole che Papa Francesco ha usato nell'incontro che ha avuto durante l'anno della fede con tutte le confraternite del mondo ovvero evangelicità, ecclesialità e missionarietà. Parole che sottintendono la fede, il sacrificio e la devozione che deve muovere i fedeli ed il pillegrinaggio deve essere affrontato proprio con questi valori. La novità è che presso il santuario della Santissima Trinità si doterà di uno statuto della Confederazione delle Compagnie. È stata già illustrata ai presenti la bozza e al prossimo incontro che si terrà ad aprile i capi compagnia dovranno portare i nominativi di ciascuna provincia che oltre a loro entreranno a far parte del direttivo della Confederazione che avrà il compito di aiutare e migliorare i pellegrinaggi e i vari raduni che si svolgeranno durante l'anno. Responsabile sarà il Rettore protempore del santuario. Quest'ultimo ha anche illustrato la bozza del programma della festa dell'apparizione della Trinità che si svolgerà il 16 febbraio del 2019 con un ritorno alle vecchie tradizioni come il sassolino che si getta giù nel fiume che serve ad allontanare i peccati il companatico sono solo alcuni esempi. Durante il percorso da Vallepietra al santuario si svolgeranno le confessioni con i vari sacerdoti che si metteranno a disposizione. In programma anche i prossimi raduni che si terranno nel mese di giugno e luglio 2019 ipotizzandone un attufano ad Anagni, un ammarano eco ed un altro forza rieti.